Due squadre che sono talmente vicine, con qualità, che delle volte due palloni cambiano l'esito della partita. È veramente difficile prevedere cosa sarà, perché ogni partita va da sé. Siccome sono le uniche due federazioni che organizzano eventi grossi, dobbiamo mettersi d'accordo. Il prossimo tocca a voi, poi dopo tocca a noi.